Vediamo come nasce il podcast di Italian Time Zone. Innanzitutto le idee vengono messe su carta, per me è molto importante, con una mappa concettuale e degli appunti con scadenze o quant'altro. Poi c'è la parte su computer dove inizio a creare l'episodio con delle idee che mi vengono in modo molto spontaneo, come se stessi parlando proprio a te. Queste idee di solito mi vengono mentre cammino al parco, quindi prendo degli appunti. Poi, una volta che sono a casa, vado a fare la ricerca storica, quindi a migliorare gli appunti con la ricerca storica, che viene da appunti personali e siti su internet. A questo punto l'episodio è più o meno formato, lo lascio riposare per qualche giorno e poi vado a rileggere ad alta voce quello che ho scritto. Spesso lo mando anche a qualcuno per far controllare che tutto abbia un senso, diciamo. Poi c'è la parte di registrazione, faccio così. Ma entriamo nel vivo di questo episodio. Oggi andiamo a Milano per vedere cosa significa esplorare la storia attraverso i luoghi. E poi c'è la parte di editing da computer e faccio così. Poi riascolto per poter andare a modificare il testo, perché spesso quando parlo aggiungo dei commenti o modifico delle parole e quindi vado a riascoltare per andare poi a definire la trascrizione. Poi tutto questo viene caricato sul sito, il podcast hosting, con vari dettagli tecnici. Potete vederlo qui. Spero che questo video ti sia piaciuto e che, insomma, ti faccia capire un po' tutto il lavoro che c'è dietro alla creazione del podcast. E ti chiedo, secondo te, quanto ci metto a fare tutto questo? Cioè quante ore in totale ho bisogno per fare un episodio del podcast? Fammelo sapere nei commenti. Ciao, a presto!